Sì, santo magico, vedete che c'eravamo l'ambo. Bombinari ce l'hanno, eh? Sì, sì. Oh, dimmi come faccio qualche bomba, eh? Ma non ce l'hanno. C'è l'è da, non è da distanza. Non ce l'hanno, eh? La mia cassa non è da distanza, eh? La cassa di mondo, a chi ti sa che mette? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Senti un po'? Ma devi lasciare così? Adesso sei in porzione? Sì. Ma posso staccare? Vedete che stacco? Dio. Senti l'hai a giaminarle. Ma devi chiedra così? Eh, un altro po' non potesse andare a sparare. E' un altro po' di primavera, che devo sparare. Non c'è nessun po' di primavera. E' un altro po' di primavera che la faccia no. mi faccio camminando a sedere mezzo una pesa se mi potevi molare la maniglia allora non fatigo capisci adesso c'è dietro un po' più non posso te fare una cosa basta qui si E che se muove? 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 E che se muove?